Salve a tutti, siamo qui con Rita e Fabiola ad Accumuli al COC con Protezione Civile Santa Marinella, Nucleosommossatori che ringraziamo per il supporto logistico ovviamente che ci hanno consentito di arrivare fino a qui. Le associazioni Raido, Passo Dopopasso, Aurelio sono riuscite con questa iniziativa a dare un sostegno ad alcuni cittadini di questa frazione e siamo contenti perché siamo riusciti a fare questa operazione. Non so se Rita vuole dire qualcosa. Allora io vorrei ringraziarvi prima di tutto voi, poi tramite il comitato educativo per questa iniziativa per aiutare sei ragazzi che hanno perso il lavoro. Grazie, grazie. E nevica. Grazie ancora, qui ancora nevica, il quinto inverno che passiamo sotto la neve. Se magari qualcuno ci dà un segno dalle altre sfere siamo anche più contenti. Un saluto a tutti. Ciao, grazie.